e ciao a tutti amici io sono Brad Pitt o no mi avete sgammato anche questa volta si sono sempre io bene oggi vi faccio vedere come affiancare due immagini perché un amico ha fatto questa strana richiesta come è possibile affiancare due immagini senza modificarne l'aspetto ovviamente aggiungiamo anche un background beh questa cosa possiamo farla in diverse maniere e quindi seppur semplice possiamo andare anche a complicarla quanto desideriamo io sono andato a scaricarmi alcuni video vi ricordo che tutto questo materiale io lo trovo su envato market envato element quindi vi invito a andare a visionare questo market store dove potrete trovare qualsiasi cosa video musica immagini quello che vi può servire grafiche e allora vado a prendere un video background l'audio lo togliamo perché non ci serve e sopra questo video vogliamo posizionare questi altri due video il primo eccolo qua questi queste ragazze a cavallo e il secondo una ragazza vicino una staccionata con cavallo riduciamo tutto alla clip più corta ovviamente facciamo così e come avete visto ho messo tre video in tre tracce diverse con il background ovviamente sulla traccia più bassa adesso andiamo a vedere in inspector quindi attiviamo l'inspector se l'avete spento e guardiamo la parte transform vediamo che lo zoom è impostato a 1 e questa è la dimensione massima il che vuol dire che se vogliamo ridurre questa immagine a metà questo perché l'amico ha chiesto uno schermo e l'altro affiancato quindi sarà metà una clip video e metà l'altra la cosa più veloce da fare è entrare qui nello zoom e scrivere 0.5 cosa semplicissima ecco qua questa immagine ridotta a 0.5 poi prendiamo l'altra quella sotto e facciamo la stessa cosa la portiamo uno zoom di 0.5 ora le immagini sono sormontate una sull'altra quindi andiamo a prenderla prima e la spostiamo sulla destra ecco qua io la faccio arrivare che tocchi proprio il bordo prendo l'altra e faccio la stessa operazione perfetto così come vedete abbiamo perfettamente due schermi che mantengono la stessa risoluzione quindi in questo caso i 16 noni con un video di background andiamoli anche pure a vedere in movimento ecco qua la composizione molto bella ma alle volte potremmo aver bisogno che questi schermi siano un po più piccolini come fare adesso avere la stessa misura la stessa distanza dal bordo eccetera per quello io vi ho fatto affiancare i video così perché è molto più semplice adesso selezionate questi due video vedete che stiamo facendo tutto dalla edit senza particolari effetti selezionando i due video vedete posizione che segna una cosa strana perché adesso sta leggendo entrambi video quindi non vi può riportare una posizione x perché sono diverse però lo zoom è uguale entrambi quindi se io vado a spostare lo zoom ora selezionando i due video andrò a muovere entrambi video come ridimensionamento e quindi guardate cosa succede se io rimpicciolisco vado a rimpicciolire i video che mantengono la stessa distanza dal bordo una distanza che sarà data dal dimensionamento e quindi è una cosa molto simpatica anche poter fare un effetto diciamo di questo tipo eccolo qua questa è la cosa più semplice per andare a ridimensionare dei video e averli affiancati ovviamente in questa maniera non potremo avere bordi o cose particolari avremo semplicemente i nostri due video affiancati e qua potremo anche divertirci a fare qualche effetto ad esempio se andiamo su yo potremo dargli una leggera prospettiva così stessa cosa potremo fare su il video di sinistra e così vedete sono leggermente in prospettiva questa a seconda della dimensione che diamo potremo anche esagerare ovviamente se esageriamo da una parte dobbiamo esagerare dall'altra con la stessa quantità quindi guardatevi il valore che dovrà essere il valore in negativo e così abbiamo fatto un po' di video anche in prospettiva a questo punto potremo anche ringrandirli e eventualmente a mano potremo agire su x per riportarli all'interno dello schermo ecco qua con un po' di pazienza riuscite a posizionarli correttamente vi ricordo che se andate su view avete la possibilità del safe area se andiamo a attivare questo safe area ci darà il centro e dopo questi margini che servirebbero come area di sicurezza per le scritte per non fuoriuscire sui bordi beh sempre queste tracce potrebbero tornarci utili per il posizionamento vedete proprio dei nostri video sarebbe bello avere un reticolato ora vado a disattivare la safe area e questo diciamo è un metodo velocissimo per andare a posizionare due video affiancati che mantengano le stesse dimensioni un altro metodo sarebbe quello di portare tutte e tre le clip sempre in timeline ripetiamo questa operazione appena fatta 1 2 e 3 riduciamo sempre a quello più corto ovviamente perché dobbiamo avere sempre la stessa misura andiamo a sottolineare tutte e tre le clip così come ho fatto io adesso tasto destro e facciamo new fusion clip avremo un'unica clip a questo punto andiamo in fusion e qui potremo agire direttamente su queste tre immagini andiamo a vedere come sono posizionate la prima è il background eccolo qua quindi magari lo portiamo così per poterlo identificare e ecco qua i video la seconda sono i cavalli e la terza la ragazza allora potremo andare a inserire ad esempio dei transform un nodo transform qui e un nodo transform qui ma adesso agisco solo sul primo questo dei cavalli e come prima sul size vado a portare a 0.5 eccolo qua lo vediamo lo vado anche già a posizionare qui si potrei utilizzare questa griglia della trasparenza per averla come riferimento e adesso vado semplicemente a copiare questo nodo e lo vado a incollare ctrl c e ctrl v ecco qua e ora semplicemente vado a spostare questo transform che è quello della seconda immagine dall'altra parte io lo farò con questo perché mi piace che la ragazza abbia spazio da questa parte quindi guardi di là guardate anche queste cose nella composizione quindi ecco qua andiamo a spostare e rispostiamo un pochino questo se sono troppo grandi possiamo fare la stessa cosa di prima quindi clicco uno lo fisso qui clicco l'altro e dal size faccio un expression che li va a linkare in questa maniera muovendo solo un size avrò l'ingrandimento di entrambi e qua invece ho lasciato svincolato x per poter eventualmente fare un'animazione o comunque che riposizionarli ecco qua ovviamente i video affiancati come vedete verranno comunque sempre con questo aspetto piccolo se voglio mantenere l'aspetto 16 noni eccolo qua un altro metodo ancora che avevo anche già fatto vedere tra l'altro è quello di utilizzare il tile cioè andiamo a prendere uno dei video e andiamo a cercare l'effetto video collage su openfx poi spostiamo questo effetto qui e vedete cosa succede ci da questi tile andando su effetto possiamo decidere quante colonne e quante righe ci saranno nella creazione di questi schermi ad esempio se io faccio uno vedete che gli schermi saranno posizionati così se faccio uno dall'altra parte avrò gli schermi così con queste dimensioni in questa volta oppure se lo voglio se le desidero con queste dimensioni posso lasciar 4 e utilizzare solo i primi due per esempio facciamo l'esempio invece di avere queste dimensioni particolari vado su tile e faccio preview layout vedete questi sono i due tile faccio crea tile e ecco qua ho già il mio tile pronto prendo copio questo effetto come faccio faccio ctrl c porto giù l'altro video lo riduco la stessa dimensione come abbiamo fatto prima e faccio alt v che è la copia degli effetti vado a attivare tutti gli effetti in maniera che vengano copiati tutti faccio apply e avrò il video li vado su effetti e dico che questo non è il video 1 ma il video 2 ed ecco qua l'effetto se voglio invertire tile 1 e su questo metto tile 2 non mi resterà altro che sollevare queste due tracce e mettere il mio background al di sotto questo effetto cosa ci da di diverso dall'altro ci da che qui ci sono tante cose che posso andare a personalizzare per esempio posso andare aggiungere un'ombra ecco qua l'ombra semplicemente portando a un valore poi ho l'angolo la distanza eccetera 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 eccolo qua ho un blur sull'ombra posso andare a creare un animazione l'avevo già fatto vedere andatevelo a vedere posso avere uno stile dove posso andare a applicare un bordo con un colore colore ovviamente personalizzabile basta scegliere da qua eccetera 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 perché posso andare anche a riposizionare il contenuto come vedete all'interno del mio schermo quindi vado bene anche se ho variato le proporzioni a sistemarle anche come zoom eccetera e posso anche andare a personalizzare la posizione posso personalizzare i bordi arrotondati o meno posso farli addirittura arrivare a essere dei cerchi ecco vedete che attivando questo custom size and shape posso andare a trasformare da cerchio a rettangolo perfetto con gli angoli o meno e invece con questo posso andare a scalare la mia dimensione ora lo ristabilizzo stessa cosa che se voglio replicare la cosa di là senza doverla rifare non faccio altro che copiare con control c alt v in collo e poi vado indicare che questo era il numero uno ecco qua adesso devo risistemare un po gli angoli eccetera però guardate in un attimo ho fatto i miei due video affiancati se non volevo il video così come detto sul global facevo lasciavo pure questa dimensione 2 2 andavo a riposizionare il mio materiale su tile vado a posizionarlo correttamente e magari zoomarlo così vado a copiarmi l'effetto e incollare gli attributi sull'altro ovviamente andrò a dire dai 1 e eccolo qua in questo caso essendo sulla parte alta andrò a riposizionare il mio tile avrò il posizionamento verticale e quindi non so ad esempio vado a fare meno 1.4 e anche su quell'altro andrò a abbassarlo alla stessa altezza 1.4 1.4 attenzione che uno è negativo e uno è positivo perché si spostano il rovescio uno all'altro quindi adesso vado a personalizzare i bordi come abbiamo fatto nell'altro semplicemente attivando qua e andando a arrotondare un po i bordi eccolo qua e questo è il terzo e ultimo sistema dopo andate a vedervi bene questo effetto di cui avevo già fatto un tutorial quindi vedrete anche come fare l'animazione mi raccomando seguite i consigli di anna e ci rivediamo al prossimo video ciao ciao io sono anna e ti invito a iscriverti al canale youtube di franco aversa grazie a tutti grazie a tutti